Vice omaggio nella storia, la squadra Aretina infatti si aggiudica la Coppa Toscana di prima categoria battendo nella finale delle due strade la Sestese, squadra dal passato illustre visto che ha giocato anche in quarta serie la formazione allenato da Riccardo Franchi ha infatti fatto sua l'intera posta grazie ad un calcio di rigore trasformato al 94esimo da Fei, un successo di grande prestigio per la squadra della Valditiana infatti la Sestese ha dominato il suo girone ma ha fallito un prestigioso double che avrebbe ancora di più gratificato la sua già eccellente stagione a fine partita alla festa è stata tutta la squadra del comune di Civitella che ha raggiunto il suo punto più alto della storia Franchi ha schierato tenuta in porta con Nocciolini, Sereni, Capaccioli e Iscaro in difesa, Centrocampo Gallastroni, Vichi, Palazzini e Salvadori con Borsi e Fei davanti a disposizione Brilli, Credendino, Russi, Minocci, Morelli, Billi, Gironi, Piccini e Mecchetti